La sessione plenaria dell'Europarlamento ha votato la relazione non legislativa che chiede un aggiornamento della politica di coesione europea sulla base dei bisogni delle regioni negativamente colpite dagli effetti della transizione verde. Sul punto è intervenuto l'eurodeputato Denis Nesci di Fratelli d'Italia, secondo cui sostenibilità e flessibilità devono andare di pari passo. Questo rapporto iniziativa è un rapporto molto importante perché vuole tentare di far recuperare soprattutto per le regioni periferiche dell'Europa quindi che sono più indietro rispetto alla transizione verde, transizione digitale, il gap che c'è. Noi siamo molto favorevoli su questo rapporto iniziativa perché riteniamo che bisogna abbinare la flessibilità alla sostenibilità perché si possa garantire un utilizzo totale di queste risorse. Noi purtroppo come Italia abbiamo non sempre utilizzato queste risorse, il governo Meloni ha subito fatto un'inversione di tendenza da questo punto di vista con una riforma della politica di coesione, una governanza nuova proprio per poter garantire l'utilizzo al pieno delle risorse che sono fondamentali per le regioni del sud ma per tutte le regioni periferiche d'Europa.